4. Oggi è stata una giornata ridicola, schifosa, assurda. Ora sono le undici di notte. Me ne sto nel mio camerino e ricordo. È cominciata che al mattino ho dovuto comunque recarmi alla roulette a giocare per Polina Aleksandrovna. Ho preso tutti e 160 i suoi federici, ma a due condizioni. Primo, che non avrei giocato a metà con lei e se avessi vinto non avrei preso nulla per me. Secondo, che la sera Polina mi avrebbe spiegato perché le era così indispensabile vincere e mi avrebbe detto quanto denaro esattamente le occorreva. Infatti io non posso assolutamente ammettere che lo faccia solo per avidità di denaro. È evidente che i denari le sono indispensabili e al più presto, per qualche suo scopo particolare. Lei mi ha promesso di spiegarmelo e io sono andato a giocare. Nelle sale da gioco c'era una folla spaventosa. Come erano sfacciati e come erano avidi tutti quanti. Mi sono fatto largo verso il centro e mi sono fermato in piedi accanto al croupier. Poi ho cominciato timidamente a tentare il gioco, puntando due o tre monete alla volta. Intanto seguivo il gioco e facevo le mie osservazioni. Mi è parso che in realtà il calcolo significhi molto poco e comunque non abbia affatto tutta l'importanza che gli attribuiscono molti giocatori. Certi se ne stanno lì seduti davanti a dei pezzi di carta rigata segnando tutti i colpi, li contano, ne deducono le probabilità, fanno i loro calcoli e alla fine puntano e perdono proprio come noi, semplici mortali che giochiamo senza calcolare niente. Sono comunque giunto a una conclusione che mi sembra giusta. Effettivamente nel gioco alterno delle probabilità si può scorgere, se non un sistema, perlomeno un certo qualordine, il che naturalmente è molto strano. Capita per esempio che dopo le dodici cifre mediane escano le dodici ultime. Queste escono, mettiamo due volte, e poi si passa alle prime dodici. Dopo che sono uscite le prime dodici, ecco che si passa di nuovo alle dodici di mezzo. Queste escono tre o quattro volte in fila e poi di nuovo si passa alle ultime dodici, che di nuovo escono un paio di volte per poi passare alle prime, che escono una sola volta e quindi escono ancora per tre volte di seguito le mediane. E così il gioco va avanti per un'ora e mezzo e magari due. Uno, tre e due. Uno, tre e due. Questo è molto interessante. Un altro giorno o un'altra mattina capita invece, per esempio, che il rosso si alterni col nero e viceversa senza nessun ordine. Quasi di continuo. Tanto che il rosso e il nero non escono mai più di due volte o tre volte di fila. Un altro giorno o un'altra sera capita invece che esca quasi sempre solo il rosso. Capita per esempio che il rosso esca anche più di 22 volte di seguito e, immancabilmente, continuo a uscire in questo modo per un pezzo, magari anche per tutta una giornata. Su questo mi ha spiegato molte cose Mr. Astley, che aveva passato tutta una mattina nelle sale da gioco senza neppure puntare una volta. Per quanto mi riguarda, ho perduto tutto fino all'ultimo soldo e molto presto. Ho cominciato puntando sul pari 20 federici tutti insieme e ho vinto. Poi ne ho puntati cinque e ho vinto ancora, e così altre due o tre volte. Credo che in poco più di cinque minuti mi sono trovato tra le mani qualcosa come 400 federici. A questo punto avrei dovuto andarmene, ma a un tratto ho provato dentro di me una strana sensazione, la voglia come di sfidare la sorte, di darle uno schiaffo o di mostrarle la lingua. Ho puntato la massima puntata concessa di quattromila fiorini e ho perduto. Allora mi sono infervorato. Ho tirato fuori tutto ciò che mi era rimasto. Ho ripetuto la stessa puntata e di nuovo ho perduto. Dopodiché mi sono allontanato dal tavolo come stordito. Non riuscivo assolutamente a capire cosa mi fosse pereso. E ho riferito della mia perdita a Polina Alexandrovna, solo poco prima di pranzo. Fino a quel momento non ha fatto che vagabondare nel parco. A pranzo mi sentivo di nuovo in uno stato d'animo estremamente eccitato, come tre giorni prima. Anche questa volta il francese e Mademoiselle Blanche pranzavano con noi. È venuto fuori che al mattino Mademoiselle Blanche era stata nelle sale da gioco e aveva assistito alle mie gesta. Questa volta ha parlato con me, dimostrandomi una maggiore attenzione. Il francese è andato dritto al fatto e mi ha chiesto se avevo perso dei denari miei. Mi sembra che egli sospetti di Polina. Insomma, qui sotto c'è qualcosa. Ho mentito senza esitare e ho risposto che erano denari miei. Il generale era estremamente stupito. Da dove avevo preso tutti quei soldi? Ho spiegato che avevo cominciato con dieci federici e che cinque o sei colpi fortunati, giocando al raddoppio, mi avevano fatto guadagnare cinque o sei mila fiorini e che poi avevo perduto tutto in due colpi. Naturalmente ciò appariva verosimile. Mentre davo queste spiegazioni, osservavo Polina, ma non ho potuto leggere nulla sul suo volto. Tuttavia lei mi ha lasciato mentire senza correggermi. Da ciò ne ho concluso che dovevo appunto mentire e tenere nascosto il fatto che giocavo per conto suo. Comunque, pensavo tra me, lei mi doveva una spiegazione e poco prima vi aveva promesso di rivelarmi qualcosa. Pensavo che il generale mi avrebbe fatto qualche osservazione, ma invece è rimasto in silenzio. Tuttavia gli ho letto in volto l'interna agitazione e l'inquietudine. Può darsi che nelle difficili condizioni in cui si trova lo angosci stare ad ascoltare che un così considerevole mucchietto d'oro era stato vinto e perduto in un quarto d'ora da uno sciocco sventato come me. Sospetto che ieri sera ci sia stato un vivace scontro tra lui e il francese. Si sono chiusi a chiave e hanno parlato a lungo e con calore di qualcosa. Andandosene, il francese sembrava irritato e stamattina è tornato dal generale probabilmente per riprendere la discussione di ieri. Avendo sentito della mia perdita, il francese ha osservato in tono maligno e addirittura rabbioso che avrei dovuto dimostrarmi più ragionevole. Quindi ha aggiunto, non so proprio perché, che sebbene molti russi giochino, tuttavia, secondo lui, i russi non sono capaci nemmeno di giocare. Secondo me invece la roulette è fatta soltanto per i russi. Ho replicato e quando ho visto che il francese soghignava sprezzantemente, gli ho fatto notare che la verità era naturalmente dalla mia parte. Già che parlando dei russi come di giocatori, io esprimevo su di loro un giudizio molto più negativo che positivo e quindi mi si poteva credere. Su cosa lei fonda questa opinione? Mi ha chiesto il francese. Sul fatto che nel catechismo delle qualità e delle virtù di ogni europeo occidentale civilizzato è stata ormai storicamente iscritta, e forse addirittura al primo posto, la qualità di mettere insieme un capitale. E il russo non soltanto non è capace di mettere insieme un capitale, ma al contrario li sperpera al vento in maniera scandalosa. Ciò nonostante, anche a noi altri russi i denari sono necessari, ho aggiunto, e di conseguenza a noi piacciono molto. E addirittura ci affascinano certi modi, come per esempio la roulette, di arricchire improvvisamente, in un paio odore senza fatica. Questa è una cosa che si deduce molto, e siccome noi giochiamo a casaccio, senza affaticarci a pensare, così capita che perdiamo. Questo in parte è giusto, ha osservato con aria soddisfatta il francese. No, non è giusto, e lei dovrebbe vergognarsi di esprimersi in tal modo sul conto del suo popolo, ha replicato il generale in tono grave e severo. Mi scusi, gli ho risposto, ma in realtà ancora non si sa che cosa sia più schifoso. La sregolatezza russa, oppure il modo tipicamente tedesco di accumulare denaro con l'onesto lavoro. Che idea indecente, ha esclamato il generale. Che idea russa, ha replicato il francese. Io sono scoppiato a ridere. Mi era venuta una gran voglia di provocarli. Eppure io preferirei passare tutta la vita vagabondando da un posto all'altro in una tenda kirghisa, piuttosto che inchinarmi davanti all'idolo tedesco, ho esclamato. Ma a quale idolo? Ha gridato il generale che cominciava ad arrabbiarsi sul serio. Al modo tedesco di accumulare ricchezza. Io mi trovo qui da poco tempo, eppure tutto ciò che ho fatto a tempo a osservare e a verificare fa ribollire il mio sangue tartaro. Proprio non so che farmene di certe virtù. Ieri ho fatto un giro qui intorno, un giretto di una decina di verste. Beh, quello che si vede qui corrisponde esattamente a quel che si legge in quei libricini tedeschi di dottrina morale corredati da illustrazioni. Qui in ogni casa hanno il loro Vater. Terribilmente virtuoso e straordinariamente onesto. Talmente onesto che fa paura avvicinarlo. Io non posso sopportare le persone così oneste, che fa perfino paura avvicinarcisi. Ognuno di questi bravi Vater ha la sua famiglia e la sera in casa si fanno delle letture istruttive ad alta voce. Alti sulla casetta stormiscono al vento olmi e castagni. Laggiù tramonta il sole, sul tetto c'è la cicogne e tutto è così straordinariamente poetico e commovente. Non si arrabbi, generale, ma mi permetta di raccontare qualcosa di ancor più commovente. Io stesso ricordo che mio padre, buonanima, la sera, sotto i tigli del giardinetto davanti casa, leggeva anche lui ad alta voce a me e a mia madre dei libretti del genere. Dunque anch'io posso dare una giusta valutazione di questo. Ma qui ogni famiglia di questo tipo è completamente sottomessa e addirittura schiavizzata dal Vater. Tutti lavorano come bestie e tutti accumulano soldi come giudei. Mettiamo che il Vater abbia già accumulato una certa quantità di fiorini e conti di lasciare al figliolo maggiore la sua bottega o il suo pezzetto di terra. Per questa ragione loro sono capaci di non dare la dote alla figliola e così quella rimane zitella. Per la stessa ragione vendono il figlio minore come servo della gleba o come soldato e i soldi così guadagnati li aggiungono al capitale familiare. È proprio vero che qui si fa così, mi sono informato. Ed è vero che tutto ciò si fa proprio e soltanto in nome dell'onestà. Di un'onestà esasperata. A tal punto che lo stesso figlio minore è convinto che se l'hanno venduto ciò è stato fatto soltanto in nome dell'onestà. E quando la stessa vittima si rallegra di essere portata al sacrificio cosa si può volere di più? E sapete cos'altro c'è? C'è che anche per il figliolo maggiore la situazione non è allegra. Capita infatti che lui si sia unito sentimentalmente con una certa Amarchien. Ma il guaio è che non ci si può sposare. Perché non si sono accumulati fiorini a sufficienza? E così anche loro aspettano morigeratamente e vanno al sacrificio con la coscienza tranquilla e il sorriso sulle labbra. Intanto le guance di Amarchien avvizziscono. La ragazza sfiorisce. Finalmente dopo vent'anni il patrimonio familiare si è rimpinguato con i fiorini guadagnati con l'onesto lavoro. Il Vater dà la sua benedizione al quarantenne figliolo maggiore e alla sua trentacinquenne Amarchien dal petto avvizzito e il naso rosso. Intanto piange, impartisce lezioni di morale e finalmente muore. Il figliolo maggiore diventa adesso un virtuoso Vater e la storia ricomincia da capo. E così tra 50 o 70 anni il nipote del primo Vater ha messo insieme un capitale rispettabile da lasciare al figliolo. Questi a sua volta lo lascia al suo e questi ancora al suo. E infine dopo cinque o sei generazioni viene fuori da quella famiglia il barone Rothschild in persona oppure la ditta Oppenco o che diavolo ne so io. Beh guardate un po' che magnifico spettacolo. Ecco il risultato di un lavoro ereditario di cento o duecento anni di pazienza, intelligenza, onestà, carattere, fermezza, calcolo e cicogne sul tetto. Cosa volete di più? Non c'è nulla di più alto a questo mondo. E così in base a questo criterio essi cominciano a giudicare tutto il mondo e a giustiziare direttamente tutti i colpevoli e cioè coloro che sono anche solo un po' diversi da loro. Beh ecco come stanno le cose. Io preferisco invece far baldori alla russa e cercare di far fortuna alla roulette. A me non interessa diventare Oppencompany tra cinque generazioni. I soldi mi servono per me stesso e io non considero tutto me stesso come un necessario attributo del capitale. So benissimo di aver detto un sacco di sciocchezze ma fa lo stesso. Queste sono le mie convinzioni. Non so quanta verità ci sia in quello che lei ha detto. Ha osservato pensierosamente il generale. Ma so con certezza che lei comincia a darsi delle arie intollerabili non appena le si lasciano un po' le briglie sul collo. E secondo il solito non ha concluso la frase. Ogni volta che il nostro generale cominciava a parlare di qualcosa che oltrepassava anche di poco i limiti della conversazione più comune non c'era caso che concludesse le sue frasi. Il francese mi aveva ascoltato con aria non curante stralunando un po' gli occhi. Del resto non aveva capito quasi nulla di quel che avevo detto. Polina aveva un aspetto altezzoso e indifferente. Sembrava non soltanto che non mi avessi ascoltato ma che non avesse sentito neppure una parola di quel che si era detto a tavola. 5. Polina era assorta in una profonda fantasticheria ma non appena ci siamo alzati da tavola mi ha ordinato di accompagnarla a passeggio. Abbiamo preso con noi i bambini e ci siamo diretti verso la fontana nel parco. Siccome mi trovavo in uno stato di straordinaria agitazione mi sono lasciato sfuggire una domanda stupida e grossolana. Perché mai il nostro marchese de griot, il marchesino, non soltanto non la accompagnava a passeggio quando lei usciva ma arrivava addirittura a non parlarle per giorni in te.